Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop. E francamente io volevo aspettare a portarvi questo video perché volevo farvi vedere magari i primi drop che arrivavano con l'evento Crimson Days che però inizierà stasera alle 19 e che quindi vi faccio direttamente vedere settimana prossima una volta conclusa sia appunto l'evento. In ogni caso partendo dai drop importanti, come vi ho detto la settimana scorsa sono in sessioni di esami quindi questo è il motivo per cui non sto facendo live streaming, per cui sono anche relativamente assente sui social e che speravo tanto che il primo esame che ho dato la settimana scorsa fosse andato bene e così è stato, ho concluso con un bel 27, 27 trentesimi, quindi diciamo che di sicuro non posso lamentarmi. Parlando di Destiny invece non ho giocato per tutta la settimana perché sto studiando come un dannato quindi non ho neanche pensato di accendere neanche per fare le prove in tutta onestà però giusto per portarvi qualcosa, un gameplay comunque, ho fatto un canale la notte stamattina la verità è che speravo ci fosse l'evento già che ci erano fatta ma vabbè ho completato un canale la notte che ci sono i fratelli scudo con berci dell'arco e vabbè tutti gli altri modificatori però non c'è nulla che mi voglia farne un altro perché il drop è stato un cazzo di casco a 303 di luce quindi davvero non riesco a capire il senso di fare ancora il canale la notte almeno per me che ho letteralmente tutto e non mi serve di dire speriamo di trovare qualcosa in ogni caso per quanto riguarda la mia di settimana è tutto e la vostra? Cosa avete droppato? Dove e cosa invece avreste voluto droppare? Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a lasciarmi il vostro feedback iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto e ci sentiamo probabilmente questa sera con un video dedicato appunto ai Crimson Days e a quello che la torre offrirà una volta che l'evento sarà attivato Ciao a tutti!